È stata una movida piuttosto movimentata quella trascorsa nel weekend a Cassino dove in pieno centro si sono verificate almeno due risse causate dall'abuso di alcol. Entrambe le scaramucce sono state sedate prontamente dal rivo delle pattuglie di polizia e carabinieri che erano impegnate in un giro di perlustrazione della zona. Le risse si sono verificate in centro e nei pressi di piazza Labriola dove sarebbero volate bottiglie di birra e spumante contro una giovane che fortunatamente non è stato raggiunto da alcun oggetto contundente. La preoccupazione sale tra i residenti di Cassino per questi episodi di violenza che si ripetono quasi in ogni weekend spesso a causa dei consumi smodati di alcol e droghe. Nella città martire c'è un'ordinanza quella del 12 aprile 2017 che vieta la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree esterne agli esercizi commerciali tra l'una e le sette. Una disposizione che troppo spesso non viene rispettata come gli ultimi controlli delle forze dell'ordine effettuati hanno evidenziato un gestore. È stato infatti denunciato in stato di libertà per aver somministrato bevande non consentite a giovani minori di 16 anni ed è stato sanzionato con l'ammenda di 1000 euro per aver dato da bere alcolici a minori tra i 16 e i 18 anni. Diversi altri gestori sono stati invece sanzionati con 1000 euro di ammenda proprio per aver avviolato l'ordinanza comunale numero 88. Una situazione imbarazzante e pericolosa per la quale sono gli stessi genitori a chiedere di intervenire.